Eccomi, sono il vostro caro amico Spider-Man! Va a cagare, dov'è il vero Spider-Man? Come dov'è il vero Spider-Man? Io sono il vero Spider-Man! Ma non c'è niente da ridere! Allora, brutto insetto schifoso, ho visto il trailer solo per vedere i tre Spider-Man! Tra cui uno è quello vero! Dove sono i miei tre dannati Spider-Man? Non capisco dove vuole andare a parare! Io ho pagato questi biglietti e voglio ciò che mi spetta! Ma questi non sono biglietti, sono rettangoli bianchi disegnati! Sì, ma voglio vedere lo stesso i miei tre Spider-Man! Dammi i miei dannati Spider-Man! Senta, io non capisco dove stia il problema! Non vuoi collaborare? Allora mi metto a cercare i leak sul film! E a diffonderli sui social! Tanto poi i boomer fanno il resto! Fare spoiler è davvero da cretini! Anche spacciarsi per il vero Spider-Man! Ehi, guarda, su internet c'è un meme su di me! Sono troppo forte! Ma non può aspettare di godersi il film e vedere se ci sono! E magari avere in questa vita almeno per una volta una piccola cosa ancora tutta da scoprire! E invece sta lì a cercare disparatamente una verità che non farà altro che farle perdere la magia dell'attesa! Del mistero! E poi con i suoi sensi di colpa cercherà di colpire anche gli altri! Difondendo i suoi spoiler! In modo che tutti perdano quello che lei ha già perso! Da egoista! Ma questa è Mary Jane! E che cosa sta facendo quello lì dietro? Ah no, ho scaricato il file sbagliato da Mule! Ho trovato un video su YouTube che dice la verità sui tre Spider-Man! Adesso lo guardo! E ora la pubblicità! Dannate pubblicità su YouTube! Vi odio! Mai quanto odio! T'è finto Spider-Man! Scopri Filmora10! Vuoi montare i tuoi video in modo semplice, veloce e professionale? Sì che lo voglio! Filmora10 è un interessante programma di editing video con migliaia di effetti, transizioni e opzioni fantastiche! Come AI Purprate! Vedete questi due bei giovanotti che si fissano come se si dovessero saltare addosso? Con Filmora10 è possibile rilevare automaticamente i contorni di un oggetto e separarlo dallo sfondo, così da cambiarlo con facilità! Sì ma non stare fermo lì, ficcala nella lingua in pagare e appena finito di cucinare con Walter White e ti metti a giocare alla Play! Guardate, non vi serve nemmeno il green screen! Un'altra opzione è il tracciamento di movimento! Ci stanno tracciando! Stacca! 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 Non quel tipo di tracciamento! Il motion tracking permette di ancorare un testo o un effetto ad un elemento del video che lo seguirà per tutta la sua durata, come potete vedere! Guardate qui quanti titoli, transizioni animate ed effetti ci sono! Così potrete divertirvi a montare i video come vi pare e piace a voi! Già! Provate Filmora10 completo gratis con il link in descrizione! Il video esportato avrà solo una piccola filgrana! In alternativa potete acquistare uno dei piani! Ecco uno sconto del 10% con questo codice! Ciao, Peter! Non sei Peter Parker! Vedi, te lo dice pure lui! Sì che sono Peter Parker! Non sei Peter Parker! Sì che lo sono! Non sei... Basta! Mi licenzio! Una carriera per arrivare a fare Spider-Man in un film Marvel per sentirmi dire che non lo sono! Andate tutti a f***a il c***o! Visto Octavius? E questo era come fare lo slime con soli ingredienti azzurri! Fantastico sto YouTube! L'affitto! Sta a guardare! Avrà l'affitto quando aggiusterà questa stramaledetta porta! Ha! Funziona sempre per non pagare l'affitto! E comunque per la cronaca mi state sulle palle tutte e tre! Fine! Come è finito? Ma faccio la schifo! Tre Spider-Man! Ma non ne bastava uno! Come è infinito! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti.